Buongiorno, buongiorno. Allora, poco più di due mesi, un mese e mezzo, due, dell'assegnazione del pallone d'oro, io mi sono stilato una classifica personale. A parer mio, il pallone d'oro, vabbè, è una cosa a sé, secondo me non è mai stato dato per meritocrazia, cioè merito proprio di qualità di giocatore, ma è stato dato più caldo per le vittorie. Quindi se andiamo a vedere per le vittorie, ovviamente, il pallone d'oro se lo giocano Modric, Cristiano Ronaldo e vabbè. Ma se andiamo a vedere qualitativamente parlando il pallone d'oro, io inserirei tranquillamente, anzi direi che è sempre il mio preferito messi, che è qualitativamente messi di un altro pianeta assolutamente rispetto a loro. Però, ovviamente, il pallone d'oro, dato che è stato quasi sempre assegnato, quasi, non sempre, ma ultimamente, negli ultimi anni, è stato sempre dato per le vittorie, ovviamente il mio primo nome che esce è Modric. Ha fatto una bellissima stagione e quindi, ecco, avendo anche una certa età, Modric, se non lo vince quest'anno, non lo vincerà più. Secondo, Bappé. Bappé è giovanissimo, 19 anni, viene definito il nuovo Ronaldo, il fenomeno, anche se per me, ovviamente, Ronaldo, il fenomeno, era un altro mondo rispetto a un Bappé. Cioè, lui è stato il padre del calcio moderno, ha portato il calcio a una velocità disarmante, come quella di oggi, soltanto che lui lo ha portato a una velocità disarmante, mettendoci la qualità, la potenza, è tutto ciò che oggi non vediamo da nessun altro. Però, Bappé, nello stretto, ricorda un po' Ronaldo quando partiva e non lo riusciva a prendere. Poi ha fatto tantissimi gol e, comunque, ne ha fatti 4 in 20 minuti l'ultima partita, per farvi capire. Comunque, è un giocatore che avrà delle grandi crescite, sicuramente. E quindi, a parer mio, se non lo vincerà Modric, lo vincerà Bappé. Cristiano Ronaldo, nonostante abbia fatto una grande annata, però, sapete, il mondiale è importante. Quando una persona, un calciatore, vince un mondiale, vince anche una Champions, insomma, ha buone possibilità. Quindi, rimango sempre per parere che Modric, per me, è il favorito. Se non vince Modric, vince Bappé. Dentro il mio cuore, cioè, nel mio cuore, io, la mia speranza è di vedere Messi, perché, comunque, Messi è un giocatore che io amo. Cioè, Messi, per me, è il calcio. Però, purtroppo, Messi, ce l'ammette che l'annata non è stata scintillante. Anche se lui, poi, ti ricaccia delle cose paranormali che nessun altro fa. Quindi, la corsa, secondo me, è a due. Non vorrei metterci in anglicia o l'altro. La corsa è tra Modric e Bappé. Anche se lo Hazard potrebbe essere un pericolo anche, Hazard, che è un grandissimo calciatore. Però, tra questi due, tra Modric e Bappé, quest'anno sarà. Vedremo chi vince. Saluti.